Buon signor Natale Colafate, alla chiusura di questa fiera del libro, le sue considerazioni al di là dei numeri che si sono avuti in questa edizione? No, i numeri sono importanti, non solo come quantità di case che partecipano, ma come giovani soprattutto. Ne abbiamo contato almeno un 5-600 giovani che sono venuti e attenti, non per curiosare, hanno anche comprato parecchio. Il che vuol dire che quella mensa imbandita che offre il pane della cultura attraverso lo strumento del libro è una cosa indovinata perché veramente si è portato vicino a chi ha fame il pane buono. Ecco, quindi ritengo che sia un'esperienza estremamente positiva che sta ingrandendo in tutti i sensi sempre di più e questo ci incoraggia per fare altre iniziative e per ingrandire ancora la fiera del libro. Quindi il binomio formazione e cultura può essere valido anche ai tempi di oggi in cui tutti dicono ma i giovani sono interessati ai talk show di loro gradimenti? Allora io dico che senza informazione non c'è cultura, ma che l'informazione da sola non fa cultura e quindi non fa formazione. È la base della formazione che è un concetto più ampio. Comunque il libro resta sempre lo strumento principale per la formazione culturale. Finisco. Se dovesse riproporre subito questa edizione cosa metterebbe di nuovo o cosa toglierebbe? No, la rifarei così com'è perché è stata veramente indovinata, è stata organizzata bene, c'è un gruppo di giovani entusiasta di lavorare volontariamente alla fiera del libro, Anzi, questo gruppo di giovani che ha voluto esprimere il desiderio di entrare organicamente nell'associazione Sinergie Culturale per poter essere attivo tutto l'anno nell'ambito dell'impegno culturale. Quindi è una soddisfazione ulteriore oltre a quella sul libro? Questo è un primo esito molto bello e speriamo che ne vengano altri. Grazie.